Signori buonasera, bentrovati e soprattutto bentornati sul canale Lives91. Allora, 1727, eccolo qua, ha esagerato. O per me lo dire, lui dice di aver esagerato. Si è fatto un tatuaggio proprio incredibile. Ma 1727 non solo è riuscito appunto a farsi fare il tatuaggio gratis, ma in più sta sponsorizzando, quindi è stato anche pagato paradossalmente, il tatuaggio gratis è pagato dal tatuatore, perché per vedere il tatuaggio che si è fatto il signor Aggero bisogna entrare nel profilo del tatuatore, altrimenti sti cazzi che si può vedere. Il tatuatore ha il profilo privato e quindi c'è un po' anche una mossa di aumento di follower e di visibilità. Adesso vediamo cosa si è tatuato il caro 1727 sul collo. E magari poi, se volete, lo commentate qui sotto nei commenti. Lascio un like, iscriviti nel canale e goditi il video. Ragazzi, questa volta ho esagerato. Mi sono fatto un tatuaggio di quelli che mi volevo quasi rovinare, però alla fine di tutto è venuto un'opera d'arte. Oh no, Francesco, che dici? Ma dove è l'arte? Non schifo. Ma perché non schifo? Ma che c'è l'arri? Lui non me lo voleva manco fare, ho insistito io. Ma perché è vergoglioso? Un altro che c'è là, me lo trovi, prete? Sono te. Andate a vedere perché, ma l'ho trovata sul profilo su. Io penso uno più pazzo di Argero, un cliente come lui, non mi è mai capitato, mi ha chiesto una cosa veramente obbrobriosa e mi ha insistito talmente tanto che non mi sono manco rifiutato. d'attro. Andate a vedere perché, ma perché non mi è mai capitato. Grazie a tutti.